Buongiorno e buona domenica, benvenuti al nostro Tg del mattino. Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica a larghissima maggioranza. Dopo una settimana estenuante di trattative, di schermaglie, partiti e movimenti tornano al punto di partenza. Vince il Paese, vince il Parlamento, ne escono indebolite le segreterie politiche e questa è l'analisi generale sulla quale convergono anche i tre grandi elettori molisani, Toma, Micone e Greco. Sentiamo Pasquale Di Bello. Proclamo eletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha tenuto la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Un plebiscito accompagnato da applausi a scena aperta ha salutato la rielezione al Quirinale di Sergio Mattarella e lui il tredicesimo presidente della Repubblica e come avvenuto col suo predecessore Giorgio Napolitano succede a se stesso per manifesta incapacità delle forze politiche a trovare una sintesi. Si chiude così una settimana estenuante di trattative schermaglie che hanno visto misurarsi in maniera aspra e dura le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra e all'interno delle medesime gli stessi partiti che compongono le rispettive alleanze. Una soluzione è quella di Mattarella che accontenta tutti ma che lascia sostanzialmente aperte tutte le questioni irrisolte a partire dalla indubbia sconfitta delle segreterie di partito. È una sconfitta dei leader e una vittoria dei grandi elettori, commenta a caldo Andrea Greco del Movimento 5 Stelle, uno dei tre delegati molisani scelti dal Consiglio regionale per l'elezione del Capo dello Stato. La politica partitica nesce sconfitta, continua Greco. Non a caso Sergio Mattarella ha convocato i capigruppo in Parlamento e non i segretari di partito. Sulle dinamiche interne al Movimento 5 Stelle Greco non fa misteri. No, non va tutto bene, risponde così alla domanda sullo stato di salute dei pentastellati attraversate da molte tensioni nella corsa al Colle. La riconferma di Mattarella è passata anche attraverso un colloquio con i governatori, tra coloro che si sono recati al Quirinale, per manifestare il proprio sostegno al Capo dello Stato, anche il Presidente della Regione Molise, Donato Toma. Il bilancio della mia esperienza è sicuramente positivo, c'è stata una dialettica molto forte e serrata tra tutti i partiti. Dopo che il Presidente Berlusconi aveva ritirato la propria candidatura, eliminando così tutti i vedi che erano stati posti dal centro-sinistra, si è aperta un quadro molto più ampio. Alla fine si è convenuti che il Presidente Mattarella avrebbe garantito stabilità all'Italia, avrebbe garantito imparzialità come ha fatto negli ultimi anni e avrebbe garantito in sostanza la possibilità di chiudere con una larga maggioranza questa partita del Presidente della Repubblica. L'impressione che se ne ha, guardando da fuori, è che la politica però ne esca sconfitta, soprattutto i leader, è passata una settimana prima di arrivare a questa sintesi. Prima di arrivare ad una decisione così importante è chiaro che bisogna comunque confrontarsi, ci deve essere una dialettica, non è che il Presidente della Repubblica si elegge in cinque minuti, non è così scontata, non è stata così scontata l'elezione di Mattarella, ma è stata secondo me una buona sintesi condivisa da tutti i partiti che fanno parte del Governo, quindi da maggioranza e larvissime. A doppia lettura anche il giudizio del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, tra i grandi elettori. Oggettivamente, dice Micone, Mattarella è la soluzione migliore per carisma e spessore. Ci troviamo però davanti, prosegue, ad una vittoria del Paese a cui fa da contraltare una sconfitta dei partiti. Il centrodestra, prosegue, va rifondato. Da questa vicenda arriva un segnale chiaro. È necessaria nel Paese la presenza di una grande forza di centro, un progetto, conclude Micone, al quale le forze che aderiscono al PPE stanno già lavorando. Cala quindi il sipario sulla vicenda quirinale e si apre invece uno scenario politico nuovo e tutto da riscrivere nel centrodestra e nel centrosinistra. La scollatura tra il Paese reale e il ceto politico è oggi un dato di fatto sul quale partiti e movimenti sono chiamati a fare una severa autocritica. E questi invece i commenti dei sei parlamentari molisani che hanno votato e dunque il commento al Mattarella Bis. Il presidente della Repubblica continua ad essere dunque Sergio Mattarella, sei parlamentari molisani che hanno espresso le proprie preferenze. Ho votato convinta Mattarella, detto la deputata di Italia, viva Giuseppina Occhio Nero, perché la sua scelta mette in sicurezza il Paese e pone al riparo le istituzioni da scellerate scelte prive di regia a cui abbiamo assistito anche in questi giorni. Mattarella e Draghi sono garanzia di eccellenza. La condizione primaria messa sul tavolo ha commentato il deputato 5 Stelle Antonio Federico era la stabilità e per garantirla era impossibile pensare di individuare un presidente di parte che avrebbe spaccato il Paese. Quindi come 5 Stelle abbiamo sempre lavorato a una candidatura che unisse in modo da preservare l'azione di governo garantita da Draghi e ha continuato abbiamo intercettato e alimentato il consenso trasversale nei confronti di Mattarella che si è dimostrato custode sincero dei valori costituzionali oltre che figura di equilibrio, dignità e spessore anche morale. In un momento così delicato ha dichiarato la parlamentare di Forza Italiana Elsa Tartaglione dove il nostro Paese chiede stabilità non potevamo permetterci di creare rotture che avrebbero portato a uno stallo quindi si è deciso di riporre nuovamente la fiducia nel presidente Mattarella. Forza Italia ha concluso a partire dal passo di lato di Berlusconi ha dimostrato ancora una volta responsabilità e buonsenso in questi giorni di confronti e trattative. Ho votato Nino Di Matteo dalla quarta votazione prima invece il professor Maddalena essere stata favorevole a convergere anche su una figura femminile autorevole ha detto invece la deputata Rosa Alba Testamento di Alternativa C. Credo ha spiegato che i partiti con il Mattarella bis abbiano scelto di non scegliere ma di conservare lo status quo dimostrando purtroppo mancanza di coraggio e di determinazione. Ha parlato di sconfitta della politica il senatore Fabrizio Ortis gruppo misto che ha anche lui votato per Di Matteo l'elezione di Sergio Mattarella per un mandato Bissa dichiarato non è altro che schiacciare il tasto pausa per permettere a Draghi di coronare il suo sogno spregiudicato di potere andare al colle operazione che non gli è riuscita ora va cambiato il sistema. Non avevo alcun dubbio che sarebbe finita così e il commento del senatore Luigi Di Marzio quindi non posso che trovare sorprendente come le più raffinate menti politiche del paese abbiano dovuto impiegare quasi una settimana per rassegnarsi a questa evidenza non senza pagarne un prezzo. Speravo che potesse accadere fin dalla prima votazione ha sottolineato ma compreso che non sarebbe stato così. Ho votato prima il professor Sabino Cassese ma dalla quinta Mattarella. I dati covid adesso con il bollettino diffuso ieri in serata dall'ASREM c'è un nuovo decesso 383 positivi e 128 guariti a fronte di un ricovero. Ci sono 5 dimissioni. Sentiamo. Sale a 527 il numero delle persone con covid decedute. Nell'ultimo bollettino dell'ASREM è riportato un nuovo decesso, un uomo di 77 anni di termoli che era ricoverato in malattie infettive, reparto in cui si registra un altro ricovero ma anche 4 dimissioni, dimesso pure un paziente da anziano fragile. I nuovi positivi sono 383 in 70 comuni su 3463 tamponi rifertati tra molecolari e antigenici. Numeri a due cifre riguardano ancora termoli con 55 casi, 42 quelli di Campobasso, 33 di Venafro, 31 di Sernia, 13 casi di Agnone, 12 di Boiano e Trivento, 11 di Montenero di Bisaccia. Numeri inferiori a 10 negli altri comuni in cui sono stati riscontrati i contagi. Tasso di positività all'11%, 128 i nuovi guariti. Gli attualmente positivi in Molise sono 9.619. I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 39 adesso, di cui 3 in terapia intensiva, 23 in malattie infettive e 13 in anziano fragile. 16 dei ricoverati hanno la terza dose di vaccino, 9 la seconda, 1 la prima e 13 non sono vaccinate. Ultime giornate di orientamento all'Istituto Pilla di Campobasso si terranno infatti. da domani 31 gennaio fino al 4 febbraio i pomeriggi al Pilla dove sarà possibile visitare la scuola e conoscere l'offerta formativa, gli indirizzi di studio e le novità. È necessaria la prenotazione sul sito internet dell'Istituto tramite telefono. Per l'accesso ai locali è obbligatorio esibire il Green Pass. È tutto per il nostro Tg del mattino. Adesso la rassegna stampa. Con Massimiliano Chiocchio in regia vediamo come titola il giornale del molise.it. Mattarella bis, il commento dei parlamentari molisani e bis di Mattarella al Quirinale. Toma, figura autorevole, esemplare rassicurante, solido punto di riferimento. Ci sono anche i commenti dunque dei tre grandi elettori molisani. Per quanto riguarda il bollettino Covid, un decesso, 383 nuovi positivi, 128 guariti ma anche 5 dimessi. E poi ancora ci sono gli approfondimenti sul Mattarella bis. Belmonte del Sannio, scuola dell'infanzia chiusa a causa Covid. L'altra notizia, poi qui c'è la foto dei governatori al Quirinale per l'incontro con Mattarella ieri pomeriggio prima delle votazioni e dunque prima dell'elezione, della rielezione di Mattarella. Toma ha detto abbiamo ringraziato Mattarella per il suo alto senso di responsabilità. Diocesi di Trivento, avvicendamento nella parrocchia del Santissimo Salvatore di Castropignano, lascia Don Antonio a Ducchio. Al suo posto il presbitero Charles Luanzo dei chierici regolari minori. Roberti risponde all'ex consigliere Orlando, l'immobilismo non ci appartiene, bisogna però verificare se con il loro progetto si facevano gli interessi dei cittadini o degli interessati e la vicenda è quella del cimitero di Termoli. Poi ancora ci sono approfondimenti per quanto riguarda il porto di Termoli perché sono iniziati lavori di manutenzione, cantieri aperti fino al 23 marzo. Poi Consiglio regionale Fanelli chiede più risorse per famiglie sociale. E giorno della memoria, continua la polemica appoggio sannita e amicone replica palomba, non serve la visibilità, dice. Gianluca Ficco, segretario nazionale Wilm, dice a Termoli si gioca una partita decisiva per il futuro dell'industria dell'auto italiana. E dunque la questione Stellantis. 535.800 euro a 27 comuni molisani, da domani possibili nuove richieste. Poi l'esercitazione in alto molise del soccorso alpino e ci sono tutte le altre notizie sul giornale del molise. Vediamo adesso come titola Primo Piano Molise, il quotidiano del Molise. Mattarella resta al colle, salva paese e politica. Il presidente uscente accetta il bis mettendo fine a uno spettacolo indecoroso, scrive Primo Piano Molise, che ha mostrato la pochezza di partiti e leader eletto all'ottava votazione con 759 preferenze. Salvini fallisce e manda il centrodestra in frantumi, commenti e auguri di parlamentari e delegati molisani. Il punto di Umberto Berardo, la notte scura della politica italiana. Virus, una vittima e un ricovero, manca 5 dimessi, 383 nuovi casi, 128 guariti, riattivata la RSA Covid di Venafro. E poi ancora questa mattina l'abbraccio a Lucia, mamma 46enne morta sui binari. I funerali alle 10.30 a Pozzilli nella chiesa di Santa Caterina. Termoli, maledizione, emodinamica, angiografo K o servizio sospeso. Guglionesi, fermata, soppresso, operaio va in fabbrica col monopattino investito da un'auto. Banca rotta, domani l'interrogatorio di Camillo Colella, ecco come è nata l'inchiesta. Poi Isernia, prima del Consiglio Provinciale, sacco verso la Vicepresidenza. Per quanto riguarda l'inquinamento a Venafro, polveri sottili, ricci, dice non possiamo intervenire sugli altri comuni, il Sindaco rassicura abbiamo fatto e faremo tutto il possibile. Per quanto riguarda le notizie di sport, calcio, campo basso, trasferta da Andrea, Mirko Cudini, cerca il blitz salvezza. Per la Serie D, il Vasto Girardi, impegnato sul difficile campo del Castelfidardo. Per il basket, la Magnolia torna sul parquet, si punta alla vittoria in casa del Lucca, dunque la prima del 2022 per le ragazze del basket. Vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali, in evidenza la rielezione di Mattarella. Il presidente di tutti, così titola la Repubblica, rieletto Mattarella con 759 voti, il più votato dopo Pertini. Non ci si può sottrarre i doveri a cui si è chiamati, tre emergenze impongono senso di responsabilità. Queste le parole di Sergio Mattarella e l'editoriale di Maurizio Molinari, il garante della stabilità. Questo è il commento di tutti, ci sono poi tutti gli altri commenti. Ora serve un premier forte. Le donne, il tabù del colle, l'analisi invece di Concita De Gregorio. Letta, il tessitore, bene il dialogo con Renzi. Carfagna, populismo finito, il centrodestra forse. Poi 5 Stelle, infrantumi, scissione di Maio, Conte. E Casini sarebbe stato il riscatto della politica. Sommersi e salvati del naufragio dei leader. Sono un po' tutti i commenti che si possono leggere nella Repubblica. Obiettivo Quirinale, gli scatti della settimana. Un po' il riassunto di questa settimana abbastanza concitata e lunga per rieleggere poi Mattarella. Così la Repubblica, vediamo adesso il Corriere della Sera. Mattarella bis per il Paese. In sostanza un po' questa la notizia. Lunga ovazione, solo Pertini ebbe più consensi. Il dovere prevale sulle attese personali. Ha detto subito dopo la rielezione Mattarella. Decisivo Draghi, trovata l'intesa tra i leader, si spacca il centrodestra. Attenzione nel Movimento 5 Stelle. Antonio Polito scrive la fine delle coalizioni. Le macerie dei partiti, invece il commento di Luciano Fontana. Da Salvini a Letta, le pagelli ai capi, la trattativa ai protagonisti. Poi noi maggioranza ricostruiremo, dice Giorgia Meloni. Il governo riparte, nessun rimpasto. Subito un consiglio dei ministri. Giorgetti dice, resto un po' questi vari commenti, le situazioni che vengono a delinearsi, le situazioni politiche dopo questa settimana. Vediamo adesso il tempo. Abemus Papam è il titolo. Ovviamente si vedono un po' un gioco di parole. E si vede Mattarella, Letta, Conte e Salvini. In questo fotomontaggio, dopo sei giorni di veti incrociati e candidature bruciate, la maggioranza trova l'accordo. E dunque rieleggia Mattarella. Un bis che fa esplodere il centrodestra. Vince ancora una volta il partito dei portafogli. In molti temevano per lo stipendio, scrive il Tempo. Il premier ora torni subito a lavorare per il paese. Nei ministeri adesso è tutto. Fermo questi alcuni dei commenti. Il tesoretto dei Novax vale 170 milioni. La cifra che il governo incasserà dalle multe non vaccinati. L'obbligo scatta martedì. Vediamo adesso Libero. Mattarella resta presidente. Calata di Brache. Dopo innumerevoli pasticci anche Salvini e Berlusconi si arrendono. Per altri sette anni al Quirinale ci sarà un uomo di sinistra. Continua Alessandro Sallusti. Parlamentari in festa. Paga e pensione garantite. Meloni furiosa. Il centrodestra traballa. La giravolta di Sergio. Minestrina riscaldata e parola rimangiata, scrive invece Vittorio Feltri. Draghi ora cambia marcia. Zero pietà per i partiti. Pronti a una riforma a settimana, il virgolettato. Il capitano non ha vinto ma è l'unico che ha giocato. Dunque si parla di Salvini. Travolto da fuoco amico e dai veti del Partito Democratico. Il futuro capo dello Stato, però fatelo eleggere a noi, scrive Pietro Senaldi. Basta giochini di palazzo. Il presidenzialismo è la richiesta. Vediamo adesso invece il Fatto Quotidiano. Ecco chi ha ucciso la presidente donna. Gli imbalsamatori hanno costretto Mattarella al bis. La notte dei coltelli. Letta Junior dice sia Conte, Salvini su Belloni. Poi la stronca di Maio, Guerini. Berlusconi e Renzi tramano. Infine la resa all'usato sicuro. Lega scontro Salvini-Giorgetti. Conte dice Di Maio risponderà non a me, ma agli iscritti. Poi ci sono vari approfondimenti anche sul Fatto Quotidiano. Pass forzato. Un milione di lavoratori esclusi. Quanti over 50 a casa dal 15 febbraio. Si parla dunque delle misure anti-Covid. I dossier bloccati del governo Zoppo, dal virus giustizia e sostegni. Passiamo adesso alla prima pagina del mattino. Non mi sottraggo dunque. C'è la frase di Mattarella. Rieletto presidente della Repubblica con 759 voti. Il garante degli italiani. Poi i nomi bruciati. Le donne usate come arma di distrazione. Scrive Maria Latella. Governo, la Lega alza il prezzo. Il Premier avanti. Giorgetti, le voci di dimissioni poi smentite. Il PD e Forza Italia. Nessun cambio dei ministri. Vediamo adesso a venire. Mattarella bis per l'Italia. Anche qui dunque questa notizia con tutti gli approfondimenti. All'ottava votazione arriva la conferma del Capo dello Stato. Senso di responsabilità e rispetto delle decisioni del Parlamento. Ha detto Mattarella. Il Cardinale Bassetti dice leale collaborazione. Presidente dunque con 759 voti. Lo stallo in Parlamento. Poi la richiesta di Draghi e tutti i partiti. Eccezione di Fratelli d'Italia. I propri interessi vanno posti. Vanno sposti a quelli del Paese. Ha continuato Mattarella. Così si rafforza il governo. Si disintegra intanto il centro-destra. Il retroscena è il ruolo decisivo del Premier per la svolta finale. Le pagelle ai leader nella più pazza settimana del Colle. L'Ucraina che teme le mosse di Putin a Mariupol. Città di confine che ha già subito le conseguenze della guerra lampo del 2014. Dunque un reportage di avvenire in questa città e sulla situazione dell'Ucraina. Passiamo adesso a vedere il manifesto. Qui rimane il titolo 5 minuti di applausi e 759 voti. Sergio Mattarella è di nuovo Presidente. Alla fine rimane inquilinale. Di una settimana che lascia sul campo coalizioni lacerate e leader azzoppati. Avevo altri piani. Prevale il senso di responsabilità. Ha detto il Capo dello Stato. Giovedì il giuramento. Draghi. Bella notizia. Questo è il commento. Poi Mattarella è lo schiaffo ai partiti. Ci sono poi tutti gli altri approfondimenti. 27 anni da arbitro e centrocampo il primo mandato. PD il sollievo di Letta. Una vittoria di tutti. Destra e KO. Meloni attacca e Giorgetti lancia la bomba. 5 Stelle. Conte sotto accusa. Per il momento papete. Crisi dell'Ucraina. Biden 8500. Marini in allerta per il Baltico. Ora vediamo il secolo d'Italia. Mattarella Presidente. Centrodestra da rifondare. Meloni. Non cambio idea. Ogni cinque minuti serviva più coraggio. Salvini la sinistra ha bocciato tutte le mie dieci proposte. E poi il PD esulta. Il Movimento 5 Stelle replica. Letta voleva Draghi al colle. Il sole 24 ore. Anche qui Mattarella Presidente. Voto record. Accetto per senso di responsabilità. Ci sono vari approfondimenti anche su questo tema. E dunque il quadro politico. Le nuove sfide. Governo. Poli. Leader. Regole. Poi le priorità. Bollette Covid. L'emergenza. E poi le riforme. Fondi italiani. La raccolta vola. Ma non i rendimenti. Si parla di risparmio gestito. Dal sole 24 ore. Passiamo adesso a vedere la stampa. L'Italia di Mattarella. È il titolo plebiscito per la rielezione. Solo Pertini meglio di lui. E Sergio. Il sì più sofferto. Se vi servo ci sono. Poi Draghi deve lanciare la fase 2 del governo. Il commento di Sorgi. Di Marcello Sorgi. E il centrosinistra. Così letta. Rianima i dem. Conte Di Maio. È rottura. La spaccatura con Meloni. Via il processo a Salvini. La situazione dunque nel centrodestra. E ci sono poi le altre notizie. Nelle foreste intorno a Kiev. Con i riservisti pronti alla guerra. Dunque una situazione calda. Sul fronte dell'Ucraina. Il caso la vergogna dei manganelli contro gli studenti in piazza. Vediamo adesso la prima pagina della verità. La seconda dose. È il titolo. Ma che trasloco? Mattarella era da sempre in pista. Destra a pezzi. E PD. Movimento 5 Stelle spaccati. Portano al bis sconfitto. Draghi che voleva il colle. Perde il paese. Scrive Maurizio Belpietro. Le conseguenze. Contrastare il regime Covid diventa impossibile. Governo più instabile. C'è già aria di rimpasto. Scrive Daniele Capezzone. La batosta di Salvini. Lega. Fratelli d'Italia. Forza Italia. Sono ex alleati. L'uomo dei clan. 200 mila. A Boschi Senior. A perturbare l'asta. Il virgolettato. Secondo la procura. Saporito investiva per le cosche. La verità ha detto. Il padre di Meb. Mi chiede soldi per vincere una gara. Adesso vediamo come titola la gazzetta sportiva. Zac. Un'altra Juve. Titola appunto in evidenza. Domani stoppa le trattative. Allegri non si ferma più. Dopo Vlaovic c'è l'accordo con lo svizzero. Zaccaria centrocampista che gioca nel Borussia Mönchengladbach. La chiave è Kuluseschi e Bentancur al Tottenham. Dunque queste sono le ultime di mercato della Juventus. La signora anticipa la svolta, scrive Pier Bergonzi. Murigno ingaggia pure l'ex arbitro. Michaela un turbo per il Gasp. Calvarese alla Roma. L'Atalanta vicina all'esterno del Parma. Toro scatenato. Ricci arma in più per Juric. Dunque vicina la stellina Kabic. E rabbia fiorentina. La curva rompe con commisso. Duro comunicato dei tifosi. Dunque dopo che la cessione di Vlaovic. Inzaghi ha fatto centro. Brozovic rinnova. E frattesi è il futuro. La forza nera-azzurra è in mezzo. Dunque centrocampo. Per quanto riguarda il Milan. Zlatan è il rinnovo. Il dubbio di Ibrahimovic. Continuare oppure no. Il Milan cerca bomber. Davide Isak in testa. E poi abbiamo la goggia ai giochi. Grandi progressi. Venerdì può essere già in Cina. Dunque si parla di sci. Con la gazzetta sportiva termina la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre in diretta alle 14.00. con il telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Buona domenica a tutti. Buona giornata. 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 Grazie a tutti